Ah ieri mi ha appiccicato una volta con mia socia Una volta? Ma sempre questo? Scusate! Mi ha appiccicato un coppo di baccalà Un coppo di baccalà? E tutti e due sopra? Stavate sopra tutte e due, sì No 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 no, vicino Perché questo mi ha detto Un bacio a me, allora Veronica ho baccalà oppure tu Prima dell'anno C'è la coppa di mano, ok Allora preparai un bello piatto di baccalà Portai questo piatto di baccalà a casa la soia E questo mi ha detto Un bacio a me, c'è la coppa di mano E hai fatto proprio un bello piatto di baccalà E quindi di conseguenza tutto è andato bene E' stata gentile E' stato... No, perché poi ho tempo a mio figlio C'è, non sa proprio niente Solo i dati di terra C'è la coppa di mano, c'è Perché hai parlato indietro e non hai parlato in faccia? Bravo, bravo C'è il tuo figlio in faccia a me e non risponderà mia mamma Sempre questo dice figlio C'è la mamma in faccia figlio C'è questo che l'hai cercato con l'andernina A questa mucettina C'è, c'è veramente Questa è intesa di un successo C'è C'è questo che mi piace C'è il tuo figlio